Quaratica al tempo di Pecore e Zappe sarà presentato lunedì 14 agosto alle 18.30 all'outlet di Brugnato questa sua opera che l'ha descritta proprio come un atto d'amore verso la sua terra. Sì, diciamo, qualcuno dirà anche Bonatti finalmente ha smesso di spubblicare guide ai sentieri delle Cinque Terre però tutto sommato anche questa può essere considerata una guida una guida che ripercorre a ritroso il nostro cammino e vuole ritrovare degli interessanti sentieri per il passato perché l'epoca che ci siamo lasciati alle spalle, almeno la mia generazione, è quella che ha visto il crepuscolo della civiltà contadina e nello stesso tempo la congiunzione con quella industriale e con l'informatica che sono venute successivamente può avere avuto un trauma e avere accantonato tutto quello che è rimasto alle spalle che invece non è da buttare ma va ricordato e va valorizzato perché anche quello appartiene a quella storia che gli antichi dicevano essere maestra di vita, ci ha insegnato delle virtù che fanno sempre parte del nostro bagaglio l'amore per la propria terra innanzitutto, poi la laboriosità, la tenacia, la solidarietà, l'amicizia, il rispetto e ho ritenuto di fare questa escursione all'indietro proprio per ripercorrere il cammino della civiltà contadina anche attraverso delle immagini perché all'interno di questa pubblicazione vi sono proprio anche delle fotografie da lei scelte in bianco e nero a corredo dei vari capitoli con i quali ho diviso questo libricino uno dedicato diciamo con un minimo di ricerca storica anche quello che ho potuto fare dedicato al borgo, poi agli abitanti, poi ai casati, ai soprannomi poi anche dei fiori all'occhiello del piccolo paese di Quaratico dove tutti erano ignoranti, al massimo c'era quello che aveva fatto come scuola superiore la terza elementare, però tutti mostrando buona volontà avevano imparato egregiamente la musica e avevano costituito una banda musicale nel 1902 che si era anche fatta onore in un concorso nazionale diretto dal maestro cortopassi a Lerici conquistando il quarto posto